Come giocare? Dark Stories deve essere giocato in gruppo, una persona scelta come narratore sceglie un mistero e ne legge la descrizione ad alta voce Ok Poi lui, lei, legge la soluzione senza svelarla agli altri concorrenti, il resto dei giocatori deve poi fare domande per risolvere il mistero Il narratore può rispondere alle domande soltanto con un sì, con un no o con un non è rilevante Ok 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 ci sono L'unica possibile soluzione è quella fornita dall'applicazione, se la risposta non è ancora abbastanza chiara i giocatori devono accettare l'interpretazione del mistero data dal narratore Tal narratore decide di dare o meno degli indizi se la storia si trova ad un punto morto Non la capita niente Con Ferre capiterà spesso Non la capita niente La difficoltà di ogni storia è indicata con un colore, facile, normale e difficile Chiaro Ferre? No Perfetto, partiamo E ragazzi come va? Io sono Ferre Niki E io sono Steffi che soggio come Dark Stories E oggi siamo qui con un gioco per cellulare che sinceramente ha trovato Steffi Io prima che lui lo spiegasse non avevo neanche idea di cosa si trattasse quindi sono molto curiosa E neanche adesso ce l'ha secondo me Allora un pochettino mi sfugge, esatto, perché tu mi hai fatto mettere le cuffie Perché mi ha detto Ferre mettiti le cuffie perché in certi momenti avrei bisogno di mettersi della musica alta per non sentire Perché io leggo la storia, dopodiché devo leggere la soluzione e la leggerò ai consolini Così io ai consolini sapremo la soluzione, tu non la saprai e dovrai cercare di arrivare adesso Quindi l'unica che viene presa in giro qui sono io Esatto Non è una bella cosa Io volevo che i consolini ragionassero con me per sentirmi, capito, confortata Per sentirmi invece loro mi prenderanno in giro Esattamente Allora partiamo da una facile, quindi col colore verde Un bicchiere d'acqua Ok Un uomo entra in un bar e chiede un bicchiere d'acqua Il cameriere tira fuori una pistola da sotto il bancone del bar e la punta in direzione dell'uomo L'uomo ringrazia il cameriere e se ne va Ok È molto strana Ok Allora io credo di saperla già perché mi ricordo questa storia ma non ne sono sicuro Allora aspetta però fammi capire bene Quindi uno è andato in un bar Sì Ha chiesto un bicchiere d'acqua Esatto Il barista gli ha puntato una pistola contro al cliente Sì E lui se ne è andato ringraziato Esatto Ok Ok Mettiti una canzone Vado Ho scelto perché voglio dire cosa ho scelto Ok L'ultimo album di McLemore Ok mettitelo a palla Perché non devi sentire nulla Sono pronta Vado Vai 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 Proprio come mi avvisi Faccio gesti Vai Ci sono Ok Allora Soluzione L'uomo era entrato nel bar a chiedere un bicchiere d'acqua per liberarsi da un fastidioso singhiozzo Lo sapevo Ne ero sicurissimo Il cameriere che l'aveva notato aveva tirato fuori la pistola e gliela aveva puntata contro per spaventarlo E dunque curargli il singhiozzo L'uomo adesso senza più singhiozzo ha ringraziato il cameriere e se ne è andato Immaginavo fosse questa e avevo ragione Ok Quanto dura Eh Fere È quella che pensavo eh Io sapevo la risposta Se ti può consolare Ok Allora devo dire che non ho sentito nulla perché proprio ho alzato il volume tanto Penso che si sente anche dal microfono Sì 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 Però Sì non ho sentito nulla E io non so che domande fare però perché non ha senso questa storia Steph E quello è il problema Cioè tu mi puoi rispondere solo sì No non è rilevante Ok vai Quindi la cosa è difficile non lo so Aiutami Prova a farmi delle domande per cui lui potrebbe ringraziare quando uno gli punta una pistola addosso Perché è un masochista? No Fere Gli piacciono le pistole? No Fere Ok ok allora Devo ragionare perché se uno ti punta una pistola È facile è banale dai Non è banale Perché non ha senso che se uno ti punta una pistola contro tu dici grazie È Allora perché c'era qualcuno dietro di lui E quindi ha puntato la pistola a quello dietro di lui No Ok Però era buono Aveva senso Aveva senso Ok Oppure Non lo so Prova a pensare perché lui vuole un bicchiere d'acqua Ci sono tanti motivi per il quale tu puoi volere un bicchiere d'acqua Prova a spararli tutti e vedere A sete Ok no Ok non ha sete quindi perché lo vuoi? Perché devi prendere una medicina No Ok Però ci sono vicina perché era un no titubante Abbastanza Allora Se non devi prendere una medicina con l'acqua caci puoi fare Te la vuoi rovesciare addosso? No perché poi non ringrazi È giusto È una cosa Allora Questo è l'indizio gigante perché diceva che il narratore sceglie lo stallo non mi piace Voglio dire una L'acqua era avvelenata e lui gli ha puntato la pistola per non fargliela prendere Quindi l'ha ringraziato Molta fantasia Molta fantasia Ok vai Allora Questo è il mio indizio È difficile È facilissima È facilissima Abbiamo un bicchiere d'acqua Che lui vuole per una ragione Ok Questa pistola puntata contro Ha lo stesso effetto di quel bicchiere d'acqua per la persona che l'ha chiesta Ma mi confondi ancora di più Lui aveva bisogno di una cosa Ok E con questa pistola addosso Quella cosa l'ha ricevuta allo stesso identico modo Adrenalina No Cosa devi volere? Perché ti dovrebbe servire avere una pistola puntata contro? È quello che non penso Ti arrendi? No non mi voglio arrendere Fede non possiamo restare 15 minuti con la prima che è pure semplice Per favore Dai dammi un altro indizio Ci voglio arrivare Ha a che fare con la paura Eeeh Quindi ti spaventi perché uno ti punta addosso una pistola Ah va bisogno Non lo so Per il singhiozzo Chiedi un bicchiere d'acqua per far passare il singhiozzo E lui ti punta la pistola contro per farti spaventare e fartelo passare Ma dai ma la conosce chiunque come storia No lo stesso Cioè io pensavo qualcosa di molto elaborato Ero già proprio nell'ottica dell'essere un detective Il detective Ferenichi Dell'agenzia Ferenichi e Coop Perché tutto giro attorno a me Certo E quindi capito E invece era una cosa così banale Quindi la devo pensare in modo molto più stupido Beh sì Eh ok Ok Vai Allora ne facciamo fare un'altra a te Poi ne faccio una io Perché se sei messa così qua Non è neanche divertente Te lo dico subito Ferenichi Speravo fossi più brava Voglio vedere a te E mi vedrai Allora te ne scelgo un'altra verde Dato che questa non ha pagato bene Allora Salto Dal sesto piano Ok Ok Una donna salta dal davanzale di una finestra a sesto piano Nonostante ciò Non riporta alcuna ferita Finita così? Sì sì Devo mettermi la musica Sì Vai Aspetta che continuo la stacanzare Ok La donna aveva intenzione di suicidarsi Ma cambia l'idea all'ultimo minuto E salta sì dal davanzale ma verso l'interno Per entrare Aia È più difficile dell'altra secondo me Vero con se Fatto? Sì Allora È saltata dal sesto piano C'era qualcosa che l'ha riparata Tipo un tendone Di un barro Qualcosa del genere Nulla che la potesse difendere da sotto E allora era in un circo Sai le acrobazie che fanno Lanciandosi dai posti alti Quindi non si è fatta nulla È un palazzo Ah c'è la foto di un palazzo Ok Il palazzo era Andato a fuoco Quindi i pompieri l'hanno salvato da sotto E le si è dovute buttare per salvarsi Ti ho detto che sotto Non c'è nulla che ti può salvare Ok E allora è possibile Così smetti di sparare E allora poteva volare Cosa? Poteva volare Era Supergirl Ok Sì era Supergirl invece Ok Ah questa per me è peggio dell'altra Te lo dico Quindi almeno te lo dico subito Ma quindi è banale Sì ma proprio a livello scenifer Ma scusa allora perché si chiama Dark Stories Cioè Dark Ma io mi aspetto qualcosa di misterioso Non qualcosa Vabbè Allora Ah ah Se non c'è niente che la ripara Quindi lei si butta e non le succede nulla Esatto Non lo so Non lo so Aiutami Dai aiutami Ci sono diverse direzioni Verso cui tu ti puoi buttare Cioè Scusami La gravità ti prende verso il basso Non è che ti permette di andare Diverse direzioni Se tu sali in una finestra Per buttarti No grazie Ok Puoi buttarti O puoi Arrampicarti nel palazzo Camminare nel cornicione Cosa puoi fare Se ti dice che si è buttata O si butta Da una parte si butta dall'altra Allora aspetta È uno di quelli che pulisce i vetri Si voleva suicidare Ha cambiato idea E ha saltato per tornare dentro a casa E non sto scherzando Davvero la soluzione È triste però Te l'ho detto che era banale No è proprio triste Non mi piacciono ste cose Stef Lo so Ok vuoi provare a farne tu una a me? Vai Ok allora aspetta che Ti do questo Ti do da tutta la burumballa Facciamo sperduto Ok Allora leggiamo Marco va a fare una gita E porta con sé la sua bussola Dopo una lunga camminata Decide di fermarsi Per mangiare un panino Poco dopo però Si rende conto Di non essere capace Di tornare indietro Leggo la soluzione? Si Aspetta Eri un po' Un po' Stavo ragionando Stavo ragionando Stavo ragionando Pronto appena ti vi vado Ok Allora Marco è uno scienziato Che lavora nei pressi del polo nord Quando è uscito per fare una camminata È andato in direzione del nord E si è fermato a mangiare il panino Precisamente al polo nord Quando prova a tornare indietro Si rende conto Che la bussola ormai è inutile Dato che ogni direzione Indica il sud Io penso di non aver neanche capito La soluzione Aspetta Non mi è molto chiara Però penso di aver capito Ma non sono molto sicura Ok No vabbè Tu Continua a ragionare Capito Ok aspetta Ok Ok Ci sto arrivando Ok 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 No Continuo a non capirla bene Però vabbè Se non la capisci Come faccio a indovinare No dai vabbè È strana Secondo me tanto non ci arrivi Perché Perché sto giocando con ferro No è ambigua Perché Consolini Che storia è scusatemi Che storia è Ok Capito vai Allora Dico la mia Ok Lui stava seguendo sempre il nord Ok Ci sei già arrivato E non ha capito come tornare indietro Perché non sa leggere la bussola Quindi non sapeva come tornare a sud Per tornare indietro Ma l'avevi già fatto No È ovvio Il problema è con la bussola Ho indovinato Te l'ho detto che fai schifo Tu a sto gioco E che non sono io Il problema O il gioco Fai schifo È facile Facciamo Questa Questa vai Ok Allora Aspetta che mi sto incastrando Che vista incredibile Una donna sta guardando Dalla finestra Quando vede un uomo Con in mano un coltello Non fa in tempo A chiamare la polizia Che viene uccisa Musica Ok La donna Sta vedendo il riflesso Dell'assassino Che si trova Già in casa Quindi dietro di lei A breve questa soluzione E non la smette E non la smette Puoi smettere Puoi smettere Era molto breve Questa soluzione Breve più della storia Ho notato Quindi è molto banale È un film No non credo Ok Perlomeno se è un film Io non l'ho mai visto Ok Allora Quindi che vista incredibile Vede un tizio Con un coltello Ma non fa in tempo A chiamare la polizia Che viene ammazzata Esatto Ok Allora Ragioniamo su come potrebbe accadere Una cosa del genere Guarda secondo me Comunque questa È più banale Di quella prima Che hai indovinato subito Nonostante questa sia gialla Anziché verde Secondo me è più banale questa E io te lo dico Ok Boh Semplice Che quando la pensi Cioè Era insieme a lei Dentro l'edificio Sì Però perché È stata uccisa subito Ok Perché ce l'aveva di fronte Non proprio Cioè nel senso Che lei era nel palazzo A vedere una vista bellissima Ciao sto tizio Con il coltello Vicino E non fa in tempo A chiamare la polizia Perché ti ha coltella A grandi linee è così È un po' diversa Ok Ok Lei praticamente Nella finestra Ha visto il riflesso Ah vabbè Sì Dell'uomo che si trovava Già in casa E quindi poi la uccide Ok In ogni caso Ci fermiamo così Fateci sapere Se volete vedere Altri video su questa applicazione E se volete vedere Altri video simili Dato che sono Parecchi universi da solito Speriamo di sì Nel caso fateci sapere Con tanti like Se sono da giocomenti Eccetera eccetera E ci fermiamo così Se ragazzi Se non è gioccioso Se tutto lasciate Diciamo like E se la prima volta Che vedete il nostro video Potete considerarli Da iscrivervi Non mi farò perdervi Gli altri episodi Ciao E alla prossima Ciao Ciao Ciao